così, illuminato di così non credo si possa perfetto, ora qua sotto noi invece dobbiamo iniziare a scavare il nostro deposito per farlo però mi serve mi serve, mi serve della legna che ce l'ho, però non in quantità industriale, è quello il problema tra l'altro voglio capire se con il bambuio posso fare i blocchi con cui posso fare le ceste perchè se si può fare facciamo una bella farm di bambu tanto non è difficile da fare mi basta stare a afk e via tac 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 vediamo se è fattibile farlo allora come funziona il blocco di bambu? a 9? si possiamo fare le ceste ok allora ragazzi è il momento di andare nella nostra zona incredibile delle farm o che più o meno sarà quella delle farm e fare una bella farm di bambu facciamola beh anche qua tac 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 cioè vediamo il giusto albero e via allora per fare la farm di bambu intanto il bambu non credo si pianti sulla roccia esatto ok mi serve della terra ma prima di questo direi di fare un attimo il sistema di smistamento quindi con le rotaie allora cassa vabbè tramoggio per il momento allora se io la terra la metto qua sotto al minecart che corre sopra il bambu che cresce potrebbe anche essere quindi vuol dire che io qui dietro chiudo così ovviamente pieno perché si li facciamo così quindi vuol dire che poi abbiamo un cubetto sopra su questo cubetto sopra andiamo a mettere i nostri pistoni e sopra ai pistoni dobbiamo andare a mettere gli observer e qui ci va appunto la redstone stato ragazzi uno di voi mi aveva detto di traddare con i villager e vabbè non ce la facciamo mai e di prendermi le carote dorate quindi probabilmente possiamo anche provare a farlo dopo ora ho del link sack bella domanda comunque poi nel sistema del del deposito dobbiamo fare un un meccanismo che tutto quello che non non trova diciamo lo lo manda tipo in una cesta che tanto è una cagata da fare e what si può volare in acqua ma che cazzo ma davvero non lo sapevo sta roba dai ragazzi ma uno squid per favore andiamo a vedere nel fiume qua dietro eccolo è uno ciao amico direi che ce li faremo bastare oh che culo un inksack che fortuna incredibile ragazzi ok e ora devo fare intanto un hopper e andare a prendermi dell'oro per fare le rotaie farm da che parte stanno a parte che ho le rotaie rosse non ho guardato solo le rotaie rosse ma dovrei averle in teoria credo dovrei averne ancora infatti c'è scemo che sono mettiamo tutto vetro ma si dai andiamo a prendere del vetro bom perfetto ora la farm dovrebbe workare una meraviglia me ne è rimasto uno no non è vero vabbè qua lasciamo così bonda è ragazzi con la nostra nuova farm di bambù qui alle mie spalle io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao